Il senso religioso o l'esperienza religiosa è innanzitutto un fatto, un fenomeno obiettivo, un fatto reale, non è un'idea, innanzitutto non è un modo di sentire, non solo si tratta di un fatto, di un avvenimento, ma del fatto più imponente e più inestirpabile della storia dell'uomo, più imponente, più vasto, che neanche il fenomeno dell'amore dell'uomo e della donna, che neanche il fenomeno del rapporto tra genitori e figli. Perché il senso religioso è un avvenimento che pone, che afferma o che ricerca l'orizzonte entro il quale acquisti senso anche il rapporto tra l'uomo e la donna, anche il rapporto tra genitori e figli. Perciò è più vasto, perfino di quelli. Grazie 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 Il senso religioso o l'esperienza religiosa è innanzitutto un fatto, un fenomeno obiettivo, un fatto reale, non è un'idea, innanzitutto non è un modo di sentire. Non solo si tratta di un fatto, di un avvenimento, ma del fatto più imponente e più inestirpabile della storia dell'uomo. Più imponente, più vasto, che neanche il fenomeno dell'amore dell'uomo e della donna, che neanche il fenomeno del rapporto tra genitori e figli. Perché il senso religioso è un avvenimento che pone, che afferma o che ricerca l'orizzonte entro il quale acquisti senso anche il rapporto tra l'uomo e la donna, anche il rapporto tra genitori e figli. Perciò è più vasto, perfino di quelli. Grazie 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 a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Buongiorno 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 a tutti. e sintoistas visitando il nyokodo, che è il luogo del amor a uno stesso. La pubblicazione di tre libri in caro di edizione San Pablo sobre la vita del doctor japonese, libri importanti con le profazioni di Angelo Scola, padre Mauro Lepo e Massimo Kamisaska. In questa edizione il meeting persigge il encuentro con questi rostri di testigos e la storia che ha nascito di loro, profondizando anche nella figura di Midori, in suo silenzioso e fecundo testimonio totalmente comprometito con il cammino di suo marido. Midori è una moglie incredibile, crece in una famiglia catolica che accoglie a Takashi durante i sui studi, e è allì dove lui comincia a conoscere e a estimare la esperienza delle comunità cristiane. Midori è una moglie e una madre molto premurosa e aiuta a insegnare a le donne del barri di Urakami, cose, insegna le arti floreali, soccorre a gli heriti e trabaja gli campi dopo gli bombardioli in la guerra. Un lavoro fecundo al servizio di tutti. e iniziamo con Paola Marenco che ci insegnarà con le fotografie, le attacchi e i punti fondamentali di sua vita. Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. due anni di la bomba e di la morte di sua moglie. Però, perché questa fatiga? Mi ha persuadito che lo fa in realtà per mirare con stupor lo che altro ha fatto in sua vita. Cioè, la storia di questa amistà inagotabile e verità che è l'alianza del Criador con la Criatura quando questa è lo suficientemente simple di coraggio per riconoscerela. Credo che questa biografia è un desafio vero per ogni hombre che crede che la vita si necessita per buscare il sentimento. Cioè, per ogni uno di noi. També mi piace il titolo Il Camino di un Hombre. Perché lo che Takashi ci presenta è il Camino di un Hombre. E con respecto a Takashi, ora che lo conosco meglio, io direi che è un Hombre realista nel senso di che sempre ha sido leale con si stesso e con la realtà. E, ademais, la unica forma di trovare il mistero è la realtà. È un Hombre, un scientifico, e per lui la ragione, che è la caratteristica del Hombre, ha una enorme importanza. e la ragione, dice Don Giussani, sempre parte de lo real. Sempre mi ha llamado la atención che, incluso quando Dio stesso viene a responder al grito di dolore di Job, Dio lo ha desafiato con i hechos. Donde eravamo tu quando io hacía le estrellas, eccetera. Però Takashi usa tan bene la ragione, di una forma tan extraordinariamente abierta che, molto temprano, che dice che il Hombre non conosce solo lo che si può scientificamente dimostrare, perché c'è un conoscimento della mirata e del coraggio, che, ademais, sono tan importanti in la medicina. Il si sarà provocare per tutto lo che passa, intuendo la presenza di un altro altro più che pede essere scoperto e verifica le risposte a pesar del lugar che viene di tutti gli altri. E per questo considera che il scientifico Pascal è suo amico, che dice che il ultimo passo della ragione è riconoscere che ci sono molte cose che vanno più allà. Però in la alianza con su criatura Dio se para delante di sua libertà a pesar di che sempre vuole a buscarnos a pesar del a pesar del camino che abbiamo scoperto. Credo che è molto interessante come Takashi ha parlato di le cruciate. Il ha tenido molti cruciate in la vita di Takashi delante delle quali sua intelligenza e sua libertà hanno di decidere se prendere il cammino esquerdo o direto. La prima incrucijata nella vita di Takashi è la mirata di sua madre che deixa entrare sua posizione ideologica materialista se ve derrumbata per la vita di sua madre tanto che decide andare a vivere a Urakami è un barrio a 500 metri di sua università dove vivono proprio i cristiani che le irritavano quando oia le campanze di questa grande iglesia e lo fa per verificare personalmente la razzonabilità della fede che ha chiamato l'attenzione il scientifico Pascal e da qui il conoscimento dei cristiani passa a essere un prejuicio a un vero conoscimento di vedere come vivono una vita più humana per esempio non hanno sentimento per tutti i martiri che hanno vivuto la seconda incrucijata è una enfermedad che le passa quando è molto joven e qui surge una pregunta che vuole in sua vita una pregunta in la esperienza della precarietà della vita il grito per che qualcosa dure per sempre la elezione per la radiologia dove si descubre di una sua vita di una esperienza dove ha trovato uno vero maestro e si piaceva un vero maestro e si apassiona una búsqueda della verità per curare SUFRI e per insegnare sta sorprendendo per lo che possiamo chiamare una revelazione personal di una presenza che non conosce che passa in la misa di Navidad del 1932 però questo non bastaria senza la comunità dei crei questo conjunto di testimonio che fa visibile il misterio come ha detto il padre Lepori anche senza Midori e questo va a parlare un abad una mujer di una fede straordinaria che conosce bene questa amistad con la mayúscula che si convierte per lei in una compagnia vocacional antes in la conversione e poi nel matrimonio e è una señal progima della alianza una compagnia al destino in lo quotidiano e che si desvelara poco a poco e più profondamente quando non sarà a suo lado in carne e huesos altra encrucijata e decisione per la existenza per lei è la volta della prima grida di Manchuria quando pide il bautismo è è è incredibile come il sacramento lo transforma in una criatura nuova che pensa judica e attua anche in una situazione 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 completamente nuova è dire cristiana però in la vita di Takashi anche c'è una domanda molto importante che è io chi sono era un doctor comprometito dia e noche con sus pacientes però cada vez più tenia claro qual è la exigencia primaria della vita che darà il l'ombre in cambio di sì e dice che non si aveva perdito la riunione del gruppo di San Vincenzo perché all'i si lavorava sobre la sua salvazione è il lavoro sobre sì e e dice che il cristianismo insegna a amar prima a Dio dopo a uno e dopo a los altri però amarsi a uno non è egoismo è una lucha è una lucha contra il proprio egoismo e nel mismo anno tuve un shock anafiláctico per il che stava a punto di morire e ese lo chiama il cambio perché se dà cuenta perché se dà cuenta di che si può morire di repente quindi hai che vivi cada momento come se fosse il ultimo lo sufficiente è lo necessario per seguir adelante la señal más importante para él è la ternura di la mujer de Midori che lo acompaña en la cotidianeidad e ama su destino hasta confortarlo en la diagnosis de leucemia che 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 padecìa a causa di lecce di per la radia logro e allì conoce la ternura e i doni di 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 che si fia tanto che viviamo tanto che muriamo è viviamo per la gloria di di e poi la bomba atómica durante tre dies è médico per gli sobrevividi però la encrucijata più importante di sua vita è la del 11 di agosto del 45 quando ve che non hai nada de todo lo che di tutto lo che abbia tenuto la vita perché la mujer sta muerta il laboratorio sta derrumpato il hospital non 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 la città e la iglesia non 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 decide termina il libro della autobiografia con una frase che cita che dice che era la voz di Jesus dice las montañas ha rezzato la cenizia cenizas de las cosas por las cuales había vivido toda la vida e all' diec decide dice que todo esto ha sido quemado porque podían morir pero no se puede vivir una vida sin sentido hai che agarare a lo che non muere mai e ora sape che lo che non muere mai è la vita amata per Dio e la vita che Dio ama questa è la verità vita che Dio ha bisogno di vivere io ho perduto tutto però con due figli piccoli, con la salute che già mi falta io sto nel desierto e ora faccio la mia nuova vita e di fatto arriva a Urakami dove aiuta a tutti tutti lo che volven come della guerra e poi a partir di 1948 quando già sta in la cama irà a vivere in una cabaia di 4 metri quadrati come elezione seguendo il camino di sua moglie e questa cabaia lo chiamano il nio kodo il lugar del amor a si mismo e dopo 3 anni sobre si arriva la pobreza del spirito che sape che non è facile che non è facile per ottenere per ottenere sencillez e la pobreza originaria e questo lo permetterà descubrire un coraggio di nio felice ogni giorno in qualche circunstanza Diferentemente de los ascettati japonesi, vive, se mette in la devastazione atômica per vivere con il suo popolo. E solo dopo aver subito al monte di le Bienaventure, sape che è conoscere a Dio. Incluso in la investigazione in suo lavoro, ve deba di la aparienza il rostro di questa presenza amica. Frutto di questo cammino è il rostro luminoso che tutti possono trovare. Si è diventato già in un medico del coraggio. La gente va a trovare perché questo rostro ha parlato di esperanza. Tutti le buscano per tornare a trovare una esperanza e un gusto della vita. con l'actuale è questo in l'Occidente, dove già non si può parlare di cristianità extendita. Però ci sono molti santos che possono trovare. è un rostro luminoso perché è sicuro di una amistà inagotabile e recuperare la posizione di un bambino che non vuole cambiare le circostanze difficili se sta con il suo padre. Ha dato la possibilità di reconstruire in un tempo più dramattico di quello di oggi tutto. E ora vediamo che che, dopo 70 anni, questa amistà inagotabile ci ha parlato e ci ha chiesto tanto che abbiamo deciso prendere una causa di gratificazione qualcosa che non ho pensato di fare. Grazie, Paola. Grazie, Paola. Continuiamo... seguiremo a vosotros, los amigos della Comissione. Padre Lepori, a ti te pedimos che che ci parli di la vocazione di questi due esposos che mirano al destino. Si la vita di i amici di Dio o se crei di i santos è sempre profetica perché encarna e fa palpabile a quello che il Espirito di Dio desea annunciare al mondo a una epoca a una contigenza histórica dentro la qual la humanità a veces perdita busca orientarsi hacia suo destino buono non è un aspecto menor della infinita misericordia del Signore che ci sorprende con segnios profetticos più evidenti quando ci troviamo più perdita quando la disorientazione è particolarmente trágica e tenebrosa a menudo la humanità olvida i signi profettici quando crede che la tragedia ha sucedito perché 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 sopravvano lo che provoca la superficie humana della convivencia la humanità cree poder vivere tranquilla non perché halle asimilato la profecía che può risolvere la tragedia sino perché la tragedia con una astuccia diabólica consiga attuar dentro della profondità del corpo social e cultural come una enfermedad oculta che corrono a questo corpo senza che a questo se dà cuenta quando ho leito la autografia di Takashi Paolo Nagai così come altri di sui scrittori mi ha sorprendito soprattutto la perdita di essere anche io una célula di questo corazón senza memoria distraído che ha potuto vivere senza recebire l'eco di questa profecia e si expresa hasta il culme della tragedia humana magari la più terribile di tutta la storia la tragedia che culmina con la destruzione atomica di Nagasaki che pone fin a un desencadenarsi del mal del mal con mayúscula che exterminò millone di persone e destruyò siglos di cultura dejando heridos e infeccioni che ancora oggi continuano a fare sufrir e morire pueblos e naciones nagai ha interpretato la bomba atómica di Nagasaki come la extrema expiazione querida por dios nos asombra il discurso che nagai pronuncio delante della cattedrale in ruinas di Urakami dice io credo che 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 l'idea che elige Urakami e che lega la bomba esattamente sobre nuestras casas potrebbe avere una grande relazione tra la entrega di Nagasaki e il fine della guerra non fu Nagasaki la victima elegida il cordero del sacrificio asesinato per essere ofrecita nel altar dopo tanti peccati con le nazioni durante la seconda guerra mondiale queste parole, questa conscienza sono la profecia encarnata di Takashi Nagai e di sua madre Midori di la profecia che non possiamo lasciare di ascoltare per la che abbiamo di lasciare penetrare per non vivere sobrevivendo a le tragedie del mondo per non vivere sobre le tragedie del mondo passati o attuali come se si los pisasemos inconscientes, ignorantes, indiferentes come sepulcros di quellos che Gesù dice che la gente camina por encima senza saberlo e questo succede quando continuiamo il camino della vita senza la memoria di un significato di un sentimento che anche dopo le peore tragedie le vuole dare a nostro existire una direzione per aiutare il presente per a toda la humanità per a che sia un futuro e soprattutto per a che sia eternità a menudo ci preoccupiamo per avere un futuro però non per avere eternità un futuro cronologico dove nostri tesoros terrenos podano continuare a encontrar un lugar reservato nos preoccupiamo per avere herederi ma che per avere hijos di avere custodio di quello che abbiamo ma che per avere hijos che vivano della vita che le transmitiamo che non ha un sentimento un significato può costruire anche sulle ruine come dice Nagai che non ha un sentimento non ha un sentimento di fatto non ha un sentimento le costrui le casas sulle roche che è heredato di un passato dove la vita di un pollo era cultura che transmitia un sentimento a través di moltiplici le expresioni di lo humano Nagai è profetto anche nel come ha pensato nel futuro di i sui figli e nel futuro di i sui pollo e nel nostro futuro il futuro di la humanità però proprio per questo per questa terra atòmica dove ci siamo vivendo magari anche per responsabilità nostra proprio per questo la profecia di Takashi e midori Nagai e in midori Nagai nos è data particolarmente a nosotros e offrecia a nostra libertà e a nostra necessità come signo amoroso del eterno preoccupato per il tempo per il nostro tempo e che amenazano a disolverlo in la nada, che amenazano a disolverlo in una destruzione vana, in una destruzione che acaba in si stessa. Nagai, sulle le ruine, sulle la pulverizzazione di sua città, che coincidia con la ruina e la pulverizzazione di tutto quello che aveva costruito durante sua vita, come describìa Paola, che coincidia letteralmente con la pulverizzazione di sua città, Nagai, sulle le ruine, sulle le ruine, che aveva costruito in tutto al redor di lui, ha esegito un rol come sacerdotal e profetico, ha accogito in sus mani e in su corazon tutto quel nilismo e ha invocato al Espíritu come ha fatto Ezequiel in un valle lleno di osos, di huesos. Però come ha fatto ancora Cristo stesso, morendo in la cruz, Nagai ha convertito tutto in una ofrenda. Tutto allora si conviene in un sacrificio del cordero immolato, un sacrificio di amor, di un amor che non è nostro, perché nostro amore solo aguarda la destruzione del humano. La cruz è la unica profecia cumplida e che può sempre cumplire, perché è la profecia che si cumple in la resurrezione. La resurrezione non è solo una restaurazione, non è solo una reedificazione, la resurrezione reedifica desde la nada. Desde lo alto di la cruz e elevato a la derecha del Padre, Cristo reedifica il mondo entero, pulverizzato per il mal, per il peccato e per la morte, con una fuerza nuova, una fuerza desde lo alto. E qui dice Gesù a sus discípulos, antes di ascender al cielo, Io mando sobre vosotros aquello che il Padre ha prometito, però voi quedaros, però vosotros quedaros in questa città, hasta che non seai revestidos per la potenza di lo alto. Lucas 24, 49 La potenza di lo alto, che Gesù promete, prometendo il Espiritu Santo, non è solo una forza che desciende di lo alto sobre noi, è una forza, una potenza, che da lo alto ci aiuta, ci aiuta, ci aiuta, e con noi, tutte le città, in cui ha sido riducito il mondo mondo. Per questo, una delle promesse più potenti che Cristo ha fatto in sua vita, è quando exclamò, juste prima di sua passione, e io, quando sarai alzato di la terra, attraerò a tutti a me. Giovanni 12, 32 e io, quando sia elevato di la terra, attraerò a tutti a me. Anunciava la potenza divina di amor, che, da sua morte in la cruz, avrà risolto e reedificato a la humanità, llevandola a lo alto di sua glorificazione pascual. Però, che è questa forza capace di attraer a tutti, se non la amistà? La amistà è la più potente forza attrazione che una persona può exercitar sull'altra. La amistà è la gran forza attrazione che Dio ejerce sull'amore, 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 una forza che ha creato il l'amore a immagine di un Dio che, che, come felicemente ha osato definirlo in la base terciense del siglo XII San Alredo del Revo, è l'amore amistà. Somos creati e attraerli per un Dio, attraerli per un Dio, attraerli per nostra miseria, di nostro nada. Un nada, llamado a essere quello che Dio è in si stesso, a essere amistà con Dio. Nada di lo creato existirà se al origen no hubiera una gran atraczione di Dio, di nostro nada. no existia nada e Dio ha amato questa nada e lo ha traído a Sì, lo ha traído a Sì, lo ha traído a Su amistà, con Su carità, per pura misericordia. La misericordia è il tutto che attrae a Sì, la nada, per che si convierta in tutto in il fuoco di Su amore infinito. No deberia sorprendernos che dopo del ataque nucleare sobre Nagasaki, in una total desesperazione, se abbia llegato al extremo delle forze fisiche e psichiche, caendo in coma, Takashi Paolo Nagai ha potuto percebir questo attraczio di Cristo, capace di fare risultare non solo questa città destruita, ma tutto il mondo amenazato per le due guerre mondiali. Escrive, era tutto silenzio, non si oia nessun sonido, nessun signo di vita nella terra atòmica. Il cielo si facia cada vez più luminoso, parecìa che la luz della esperanza llegase a iluminar le tinieblas della desesperazione. Era la voce di Gesù. però che parla più potente della destruzione del tutto, del passare del tutto il universo, del cielo e della terra non può disusurrare Cristo, ma se non è su parla che expresa su amor e che nos offre su amistà. Nadie tiene un amor più grande che questo. dar la vita per i proprii amici. Vosotros sois mis amici. Juan 15, 13, 14. Simón, hijo de Juan, me quieres? Eres mi amici. Simón, eres mi amici. Eres mi amici. Como lo soy para ti, que estoy dando por ti mi vida. Son palabras de Cristo como estas, que no pasarán nunca, que no pueden pasar jamás, porque su amistad es eterna, sin arrepentimiento, sin límite. es una amistad completamente fiel. Todo puede pasar, todo puede caer, todo puede morir, pero la amistad de Dios entre Dios y el hombre no pasará más, no morirá más. ¿Por qué? Porque precisamente la muerte de Jesús es el acto supremo de su amistad. Por esto, en el culmen de la tragedia de la historia y de su vida, Nagai percibió que todo podía pasar, todo podía ser destruido, pero no la potencia regeneradora de la amistad de Cristo resucitado entre los muertos. A la hora entonces Nagai intuyó que aquello que permanece para vivir hasta el final es el dejar atraerse por el Señor de la fuerza, por su fuerza y por su amistad y que todo esto y que todo esto tendrá la fuerza para ser reconstruido desde las cenizas. Él no tendrá que ofrecerse a sí mismo como signo viviente del atractivo de Cristo, de la potencia amiga que desde lo alto reedifica todo, que desde lo alto regenera todo. No se limitó a sobrevivir a la bomba. Esto le habría sido insoportable y sin sentido después de haber perdido todo. Takashi vivió y con plenitud con una intensidad extraordinaria con una conciencia de la vida multiplicada por la conciencia de aquello que no muere nunca, de aquello que hace eterna la vida incluso cuando se pierde todo, incluso cuando se muere. dijo por el corazón siempre atraído de aquel que atrae a sí mismo de la cruz y del cielo y así Nagai atraerá a todos así, pero en realidad a Cristo, desde las personas más simples y pobres hasta el emperador de Japón y el Papa. su persona en total pobreza material y fragilidad física se convertirá en profeta de la reconstrucción de las ruinas destruidas según la promesa de Dios a Isaías. te guiará llave de continuo hartará en los sequedales de tu alma dará vigor a tus huesos y serás como un jardín regado o como manantial cuyas aguas nunca faltan redificarán de ti tus ruinas antiguas levantarás los cimientos de pasadas generaciones se te llamará reparador de brechas y restaurador de senderos frecuentados Isaías 58 11-12 Il profeta della amistad dios edifica espacios y tiempos en los que se pueda revivir un pueblo tus caminos frecuentados un pueblo personas unidas por una cultura que tiende hacia lo alto porque atraída por una amistad más grande de todos y de todo viviendo esto viviendo así viendo su vida tan potentemente atraída hacia la amistad de Cristo Takashi se da cuenta como nunca que todo este milagro transparencia al milagro de ser del ser de dios que lo hace todo de la nada por amor todo este milagro no sería posible no sería consciente sin la amistad más bella y noble de su vida la de su mujer Midori no debería haber haber hablado hasta ahora sin hablar de ella pero estaba presente en todo lo que he dicho no se puede hablar de Takashi Nagai no se puede hablar de su vocación de su misión ni tampoco ni tampoco de su santidad sin implicar a Midori sin hablar de la vocación misión y santidad de Midori sin Midori sin su sí a Cristo sin su fe su oración ardiente de esperanza contra cada esperanza sin su caridad en fin sin su amistad con Cristo y en Cristo con Takashi creo que nadie hoy hablaría de Takashi Nagai nadie lo sentiría vivo y amigo de su propia vida si sono santidad hay santidades que encarnan la santidad del Espíritu Santo es decir una santidad escondida como a la sombra del Padre y del Hijo sin embargo sin Espíritu Santo no haría ninguna santidad ninguna caridad no haría encarnación ni siquiera la creación no había encarnación del Verbo en María no habría iglesia no habría sacramentos no habría palabra de Dios el testimonio la fe la esperanza sin Espíritu Santo ni siquiera haría Dios serbe uno etrino Dios no sería uno etrino no sería amor bien Midori es esto en la vida y en la santidad de Takashi Pablo Nagai y hemos de ser conscientes de ello porque no entenderíamos nada de Nagai sin su mujer Midori ha involucrado Takashi en la amistad de Cristo ha sido exactamente como la Magdalena la apóstola de los apóstoles ha involucrado Takashi en la amistad de Cristo en la amistad sin la cual ningún testimonio hasta el más heroico ninguna sapiencia sabiduría sublime ningún sacrificio sería una profecía porque no serían testimonio de otro sabiduría de Dios sacrificio de Cristo que solo salva al mundo cuando San Pablo habla en el capítulo 13 de la primera carta a los corintios toda la vanidad e inutilidad de cualquier obra y virtud en la que faltase caridad habla justo de esto porque la caridad es la amistad de Dios que se hace carne en todo el camino de conversión de fe que Nagai describe en su autobiografía Midori tiene un papel que se limita a la oración y al amor hemos escuchado que Midori también estaba muy activa en su caridad pero sin embargo cuando se lee la biografía de Nagai y contando estas cosas se entiende que su papel fundamental el corazón fecundo de su misión fueron la oración y el amor como el fuego dentro de todo lo que hacía solo alguna palabra de vez en cuando o simple acción se ven como una pequeña perturbación en el agua en este río tranquilo de oración y amor es justamente este río que no se hace notar y que permite al barco de Nagai de recorrer un trayecto largo y lleno de obras hasta el mar el río lleva el barco al mar porque en realidad en la profundidad el río ya llega al mar hasta el manantial Midori ha llevado a Takashi a una cumbre de testimonio y sacrificio de sí por la humanidad que su mujer ya vivía desde cuando la encontró en la casa a la que se mudó cuando era estudiante esto es verdad tanto que la lectura sacrifical y eucarística que Takashi expresó acerca de la destrucción de Nagasaki no fue otra cosa que la dilatación a toda la ciudad de lo que había visto en Midori tanto antes como después de la muerte que amistad ha ofrecido y enseñado Midori a Takashi y Pablo Nagai no es una pregunta banal porque es como preguntarnos de que amistad necesitamos todos nosotros para estar delante de la destrucción y la muerte dejando vencer la vida y el amor porque delante de esta destrucción atómica Nagai aunque hizo todo lo posible heroicamente para ponerse al servicio de los sobrevividos de los supervivientes perdón para curarles en realidad no fueron sus capacidades humanas e profesionales a hacerlo profeta de una vida que no muere nunca Takashi ha esencialmente ofrecido a través de su persona y sus escritos que expresan todo esto una relación diferente con todos ha seguido a Midori en el ofrecimiento al mundo de la dilatación de una amistad con Dios con Dios que ninguna muerte ninguna destrucción ninguna aniquilación ningún pecado podrán disminuir y vencer nunca a menudo nos venimos abajo delante del espectáculo del mal del odio del desprecio hacia el hombre y hacia la vida y nos preguntamos cómo podemos vencerlo qué lucha tenemos que emprender tal vez bastaría con recordarnos que las palabras de Cristo no pasarán nunca y que son palabras de amor porque de tal manera amo Dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda más no se pierda más tenga vida eterna porque de tal porque de tal manera amo Dios al mundo que dio a su hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna ofrecemos al mundo en cualquier estado en cualquier estado este mundo el amor de Cristo lo hacemos lo ofrecemos amamos el mundo este pobre mundo con el amor de Cristo ofrecemos y transmitimos al mundo la amistad de Cristo Midori nos enseña con la fe profunda y decisa es decir plenamente libre que los antepasados mártires le han dado que el método de esta amistad su sustancia y su luz consiste esencialmente en la oración y en el amor en el orar amando y amar orando la Virgen a los pies de la cruz no ha hecho otra cosa no ha ofrecido otra cosa al hijo crucificado y a todos los hijos de los que Jesús muriendo la hacía madre el santo curato de Ars decía a sus a sus fieles el tesoro del cristiano no está en la tierra sino en el cielo nuestro pensamiento tiene que tiene que ir hacia nuestro tesoro este es el papel hermoso del hombre orar y amar si vosotros oráis y amáis esta es la felicidad del hombre en la tierra proponía esta disciplina esta ascesis no para no para formar fieles correctos sino para estar en la amistad con Dios y convertirse en hombres y mujeres atraídos y atractivos por esta fuerza de regeneración del mundo que es el amor de Cristo Midori ha sido para Takashi la señal el símbolo y la prueba encarnada de la amistad de Dios que cada ser humano está llamado a manifestar como una vidriera que exalta la luz con una transparencia siempre personal la transparencia de la santidad es decir de la caridad el cuento del episodio que resume toda la amistad de Midori por Takashi dentro de su amistad filial con el Padre y la amistad esponsal con Cristo deberíamos aprenderlo de memoria como una oración para mí es una de las páginas más conmovedoras que he leído nunca sobre como la amistad humana como tiene que ser la relación matrimonial se exalta cuando cuando el corazón mendigo la lleva y la ofrece al Dios que en sí mismo es comunión y fuente de comunión escuchamos este testimonio que Nagai escribió como si mirando a su mujer en un momento humanamente triste descubriese que estaba delante del amor sagrado y eterno de la gloria de Dios dije a mi mujer que tenía una enfermedad que no se podía curar y me quedaría en solo tres años de vida a esa mujer cuya única recompensa hasta ese momento había sido la de reducirse a ser tan pequeña a esa mujer que había luchado mucho conmigo esperando de forma vana que un día yo pudiera convertirme en un profesor y pudiéramos llegar por lo menos a tener una vida como los demás Midori abrazó fuerte el niño y se quedó inmóvil escuchándome tras haber terminado de hablar ella se quedó allí parada durante unos instantes y luego se levantó se fue al altar pequeño encendió una candela y y veló veló delante del crucifijo a quella scena di sofferenza mi pensamiento fue al Getsemane cuando Jesús sudando sangue dice a esta escena cuando Jesús que sudaba sangre dijo padre si quieres aleja de mí este cáliz pero no hágase la mía sino tu voluntad esta mujer que hasta ahora ha llevado una gran cruz a partir de ahora tendrá que llevar una aún más grande la espalda de mi mujer temblaba a la luz de la vela mientras rezaba era algo sagrado profundamente sagrado ella bajó la cabeza y al terminar la oración vino a sentarse delante de mí y sonriendo dijo tanto que vivamos tanto que muramos es por la gloria de Dios puede haber una amistad más real en el tiempo grande en el corazón y eterna en el cielo que la de espejar en el amigo con las lágrimas en los ojos toda la gloria de Dios en una sonrisa que forza la vida de estos dos grandes testigos para que podamos buscar en nuestra vida y que nos empezamos a mover por aquello que no perece que no muere nunca y dado que la amistad es una forma de atracción que Dios ejerce sobre cada uno de nosotros el meeting es uno de los lugares donde Cristo sucede y desde hace 44 años es un lugar de belleza y que nos lleva al corazón de la historia y que nos puede hacer descubrir como decía San Agustín y se ha recordado en el encuentro sobre el título del meeting un lugar que hace de un grupo de personas un pueblo por la concordia y la comunión de las cosas que se aman así que gracias por vuestra presencia aquí pero también la podemos agradecer por las donaciones que se puedan hacer en la feria gracias también a los invitados y buenos días a todos a los Grazie. La civiltà dell'amore, fratelli e sorelle costruite senza stancarvi mai questa civiltà. Lavorate per questo, pregate per questo, soffrite per questo. Il senso religioso o l'esperienza religiosa è innanzitutto un fatto, un fenomeno obiettivo, un fatto reale, non è un'idea, innanzitutto non è un modo di sentire. Non solo si tratta di un fatto, di un avvenimento, ma del fatto più imponente e più inestirpabile della storia dell'uomo. Più imponente, più vasto, che neanche il fenomeno dell'amore dell'uomo e della donna, che neanche il fenomeno del rapporto tra genitori e figli, perché il senso religioso è un avvenimento che pone, che afferma o che ricerca l'orizzonte entro il quale acquisti senso anche il rapporto tra l'uomo e la donna, anche il rapporto tra genitori e figli. Perciò è più vasto, perfino di quelli. Grazie. Grazie. Grazie.